oggi ai winter business days abbiamo presentato la novità di scarpa per il trail running che la nuova spin st una scarpa dedicata a chi ha bisogno di grandissima trazione come imperativo lo vediamo proprio da un battistrada vibram mega grip da tappi da 7 mm di altezza una tomaia molto morbida e tra l'altro molto resistente corredata poi anche da un collarino ad altezza caviglia che protegge bene la caviglia una scarpa molto flessibile che però incorpora una grande tecnologia nella suola suola di nuova generazione supercritical foam con un supporto in tpu film tra l'altro la novità è anche quella dell'inserimento del bloccalaccio nbs che è questo piccolo bloccalaccio che evita proprio grazie anche a un laccio molto corto di dover fare il nodo e poi il posizionamento bloccalaccio una volta che è tarato sulla misura appunto della della tensione che ognuno desidera viene riposto poi all'interno del taschino evitando poi appunto di avere qualche intromissione diciamo di agenti di esterni che possono contribuire allo scioglimento del 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 nodo peso di 240 grammi la spin st sarà in vendita a partire dalla full winter 23 quindi da ottobre 2023 Grazie